Cari spettatori. Benvenuti su questo canale dedicato al mondo dell'intrattenimento televisivo. Oggi affrontiamo un argomento scottante che ha agitato gli animi durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle. Preparatevi a immergervi in una situazione carica di tensione e sorprese inaspettate. La scena si apre con la performance di Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina. Ma ciò che segue è ben lontano dalle solite risate e scherzi leggeri che ci aspettiamo da uno show di questo genere. Il clima si fa pesantissimo. E la giuria è coinvolta in una serie di scambi che lasciano il pubblico a bocca aperta. Mammucari, noto per il suo stile ironico, si lancia in battute apparentemente innocue che ben presto si trasformano in colpi bassi. La tensione cresce rapidamente. E perfino la Lucarelli si ritrova sull'orlo delle lacrime. Ma la domanda che tutti si pongono è. Dove è Millicarlucci in tutto questo? Il conduttore sembra perdersi in commenti provocatori. Mettendo a dura prova la pazienza della giuria. In particolare Selvaggia Lucarelli. La situazione si fa così pesante che persino la Carlucci sembra esitare nel prendere posizione. Mentre il gelo si diffonde nello studio. Selvaggia decide di alzare bandiera bianca. Rifiutando di partecipare a uno spirito che reputa ormai troppo pesante. Ma la domanda rimane. Perché Millicarlucci non interviene? Il clima sembra sfuggire di mano. E il pubblico si chiede se la conduttrice farà finalmente sentire la sua voce. Infine. La situazione si risolve con le scuse sincere di Teoman Mucari. Che riconosce l'errore e chiede perdono pubblicamente. La Lucarelli. Pur rimanendo in silenzio. Sembra accettare le scuse. In conclusione. Ci troviamo di fronte a una brutta pagina di tv di intrattenimento. Dove l'ironia si è trasformata in tensione e le risate sono state sostituite da momenti imbarazzanti. Resta la domanda. Cosa aspetta Millicarlucci per intervenire quando la situazione si fa così delicata? Se vi è piaciuto questo video e volete restare aggiornati sulle ultime novità dell'intrattenimento televisivo? Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Grazie per essere stati con noi e alla prossima.